Certo che la Panda 4x4 ragazzi è veramente uno dei mezzi più indistruttibili e inarrestabili che esistono Ma cos'è questo rumore? Sei proprio sicuro Carlo? Eh, in realtà mi duele ammetterlo, ma esiste qualcosa di ancora più inarrestabile del mitico Pandino. Il suo nome è C1 Ariete ed è il fiore all'occhiello dell'esercito italiano. Oggi siamo qui per andare a scoprire tutti i suoi segreti. È il carro pesante delle nostre forze armate ed è prodotto in Italia dalla Otto Melara. In un certo senso è la risposta tutta italiana all'eopard, ma andiamo più vicino per vedere com'è fatto. Beh, prima di tutto il peso. Qui ci sono 52 tonnellate di mezzo corazzato e ovviamente per muovere un bestione come questo il millefire della Panda no, non bastava. Quindi hanno piazzato nella zona posteriore un motore enorme, gigantesco. Credo sia il più grande in cui io mi sia mai imbattuto. Anche lui, 100% italiano, un V12 fatto dalla Iveco da 25 litri in grado di sviluppare, pensate, la bellezza di 1250 cavalli. Lo sapete, la caratteristica principale di un carro armato sta nel fatto che si muove grazie ai cingoli. Due strumenti che gli permettono sostanzialmente di andare ovunque, praticamente anche dove non ci sono le strade. La motricità viene impartita dal 12 cilindri qui e poi trasferita a tutto il cingolo, che è però la parte un po' più debole del carro armato, il suo talone d'Achille. Per proteggerli, quindi, sono state montate queste paratie che sono antiproiettile, difendono da colpi d'arma da fuoco dal calibro leggero. E se il calibro diventa pesante? Niente paura, perché l'ariete può essere rinforzato con ulteriori corazze, anche proprio nella zona dei cingoli, per renderlo ancora più sicuro. Pensate che in questo modo il peso complessivo arriva fino a 59 tonnellate. Così, come lo vedete, l'ariete riesce ad affrontare un fiume, un corso d'acqua, fino ad un metro e mezzo di profondità. Quindi si immerge fino a questa altezza. Se vi sembra poco, se siete amanti dell'off-road, niente paura. Con un kit specifico di snorkel riesce ad immergersi fino a 4 metri di profondità. In pratica va interamente sott'acqua, come un sottomarino. Pazzesco! Ovviamente bisogna essere disposti ad accettare qualche piccolo compromesso. Salire, per esempio, non è proprio agevole, come sulla Panda. Però basta ingegnarsi un attimo e ce la si fa. Eccoci nella zona chiave dell'ariete. Io sono sullo scafo, ma questa è la torretta. Una zona che va protetta ad ogni costo, perché dentro qui ci sono i militari. Quindi questa parte ha la blindatura più robusta, insieme anche alla parte frontale dello scafo, perché quando due carri si affrontano questa è la zona più delicata. In più, ovviamente, è inclinata per disperdere il più possibile la forza del colpo ricevuto. E poi la torretta ospita il sistema d'arma principale. Nel caso della riete, un calibro 120-44, in grado di raggiungere un obiettivo fino a 3 km. Con quale precisione? Beh, se ci fosse la nostra Panda non avrebbe problemi a centrarla. Ovviamente non è l'unica arma a bordo, perché sulla riete ci sono anche due MG 4259. Una è qui, coassiale al cannone principale, e l'altra invece è qui, in funzione contraerea. Ma cosa sono tutti questi strani oggetti che mi circondano? Ve lo spiego portandovi nella pancia della balena. Si sta in quattro sulla riete, proprio come sulla Panda. La differenza però è che qui ognuno ha un ruolo ben preciso, ben definito. Io, per esempio, in questo momento mi trovo sul sedile che scotta di più, perché è quello del capocarro, il comandante che ha la responsabilità del carro e dell'intero equipaggio. Davanti a me invece c'è il cannoniere, colui che ha la responsabilità di governare l'arma principale. E di fianco ci sta il servente, che è quello che carica il cannone, la bocca di fuoco. E il pilota dov'è? Beh, bisogna un po' ingegnarsi per trovarlo, perché è là davanti e per entrare nella cabina di guida bisogna essere un po' contorsionisti. Qui sono letteralmente circondato dalle più moderne tecnologie dell'industria bellica, che sono sostanzialmente nelle mani del capocarro. Cosa può fare? Beh, prima di tutto può usare questo strumento che è un'ottica panoramica con visione a 360 gradi. Questo significa che da qui si può vedere tutto quello che accade intorno alla riete anche di notte, quindi con la visione notturna. Anche il cannoniere però ha la sua ottica dedicata naturalmente. La differenza però è che nel suo caso punta sempre nella stessa direzione dell'armamento principale. Il comandante però seduto qui può vedere tutto quello che vede il cannoniere per una massima supervisione. Appena sono entrato nella pancia della riete ho cercato di scoprire cosa fossero tutti i comandi e ne ho scoperte delle belle. Da questi due joystick per esempio il comandante può governare l'ottica panoramica, ma può anche governare la torretta e quindi muovere il cannone. Ma non solo, il comandante può direttamente fare fuoco scavalcando il cannoniere premendo questo tasto che come vedete è protetto da una sicura. Non si sa mai. Il cannoniere poi ha un calcolatore balistico molto sofisticato che gli permette di avere la massima precisione nel tiro. Ecco perché una Panda a 3 km può essere centrata perfettamente dalla riete. Il capocarro da qui deve tenere sotto controllo una marea di sistemi. Per esempio da questo pannello può controllare l'andamento della torretta perché la riete è talmente sofisticato che anche durante il movimento, il funzionamento può bilanciare il cannone attraverso una serie di motori dedicati. In questo modo anche su un terreno particolarmente sconnesso il cannone riesce a tirare in maniera molto precisa. Questo qui invece è il laser warning, un sistema che permette di rilevare laser a 360 gradi. Se c'è un laser che colpisce il carro vuol dire che probabilmente c'è un altro carro o anche un elicottero che sta cercando di puntare la riete. In questo modo si possono prendere tutte le precauzioni come per esempio il lancio di fumogeni che serve a nascondere, a mimetizzare il carro e quindi a inibire un potenziale attacco. Il tutto si controlla sempre da qui oppure da quest'altro pannello. Il servente ha a disposizione pronti all'uso 11 proiettili, poi ne ha altri 4 di scorta qui sempre nella torretta, ma c'è poi una vera e propria Santa Barbara alle mie spalle qui dove ci stanno altri 27 ordigni, quindi un totale di 42 proiettili. Ma come si muove questa sofisticata torretta a 360 gradi? Beh attraverso un sistema idraulico più tradizionale, ma anche un sofisticato sistema che prevede due piastre che sfruttano l'elettromagnetismo per produrre il movimento e quindi la rotazione. Tutti possono guardare fuori dal carro attraverso i classici iposcopi, quindi rimanendo al sicuro. La stessa cosa la può fare anche il pilota là davanti che si chiude ermeticamente all'interno e può continuare a guidare in totale sicurezza. Per guidare il carro mi sono informato non è difficile, c'è un vero e proprio volante, due pedali, gas e freno e il gioco è fatto, più o meno. Più o meno quindi si va in giro come sulla Panda 4x4, basta stare attenti agli ingombri e al peso. Partiamo! Posso davvero morire felice perché ho acceso un vero carro armato ed è stata un'esperienza indimenticabile dare vita a quelle V12 che ci ritroviamo dietro la schiena. Adesso siamo in movimento, bisogna reggersi e devo dire che sono piuttosto emozionato perché il rumore qui è assordante. Sì, molto di più che su una Panda perché qui non ci sono materiali foro assorbenti e gli scarichi diesel sono diretti quindi c'è veramente un grande frassuono. La Riete riesce a viaggiare grazie ai suoi 1200 cavalli a una velocità massima di 60-65 km orari e se vi sembrano pochi beh fatevi due conti perché vi assicuro che vedere andare a 60 all'ora una bestia che pesa 60 tonnellate quasi beh è un'esperienza incredibile, è come vedere un palazzo con le ruote, anzi con i cingoli. I consumi sono spaventosi, 25 mila di cilindrata vuol dire che la Riete ha sempre sete, quando va bene si riesce a fare un chilometro con un litro. Come si fa ad avere quindi grande autonomia, beh grazie a dei maxi serbatoi. La Riete ne ha due ognuno dei quali ha 500 litri di capacità quindi ci sono circa 1000 litri di gasolio a disposizione con cui la Riete riesce a pertorrere full gas tranquillamente 500 km. Ma la cosa che mi ha impressionato di più al di là delle prestazioni, degli armamenti, del rumore, della sua potenza è la vita che si respira qui a bordo nella pancia del caro armato perché qui si sviluppa un vero e proprio ecosistema perfettamente integrato tra i quattro militari che devono vivere qui a bordo, tra il capo carro, il servente, il pilota e il cannoniere che devono essere perfettamente coordinati, arrivano ad essere praticamente una famiglia e non c'è margine di errore perché sbagliare qui vuol dire farsi male, farsi male davvero. Il vero del carro è che è completamente inarrestabile, altro che off-road, un terraio separato, le ridotti differenziali, le cose a cui siamo abituati a quattro ruote, qui siamo su un vero cingolato, salite e discese, sterrati, rocce, niente di tutto questo, qui non esiste più niente, c'è solo un mezzo capace di arrivare là dove vuole, di superare qualsiasi barriera, qualsiasi ostacolo. La riete è stata usata su teatri operativi fino a qualche anno fa, l'esemplare su cui mi trovo adesso per esempio è stato in Iraq. I militari qui mi hanno raccontato che è un mezzo ancora fondamentale, quando si entra per la prima volta per esempio in una città dove non si ha ancora l'assoluto controllo, dove c'è ancora un alto tasso di pericolo, beh è importante arrivare ancora oggi con un mezzo come la riete, con una blindatura pesante e con una motricità capace di non conoscere ostacoli. Dopo quando la situazione diventa più sicura possono arrivare altri mezzi gommati come il freccia che vi abbiamo fatto conoscere lo scorso anno e poi il lince, ma all'inizio ci vuole sempre la riete. Il C1 a riete rimane il mezzo più incredibile su cui abbia mai viaggiato, ma la Panda 4x4 è ancora imbattibile quando si parla di agilità. Beh, certo che Matteo con un carro armato mi ha veramente fregato, però la Panda 4x4 quando si tratta di scappare e passare in un posto stretto non la batte nessuno. Grazie. Grazie a tutti.